Oh ragazzi, bentornati a questo nuovo episodio del mio corso completo su GarageBand e oggi parliamo dei controlli tracce. Ehi, questo videocorso è gratuito per tutti gli iscritti del canale e per questo sponsorizzato da me stesso. Se vuoi supportare la creazione di questo videocorso ti prego di iscriverti al canale, lasciare un like e farmi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Ogni giorno, per tutto il mese di settembre, ci sarà un nuovo episodio qui sul canale alle 14. Però se vuoi sbloccare e scaricare tutti gli episodi assieme puoi tranquillamente acquistare il corso nel link che ti lascio in descrizione per soli 9,99€. Inoltre, sempre in descrizione, ti lascio il link al gruppo Telegram dove potete parlare del corso, scambiarvi idee, farmi sapere i vostri feedback, segnalarmi i problemi, tutto quello che volete. C'è un canale dedicato alle offerte audio dove segnalo gli sconti più importanti. Abbiamo avuto microfoni a 16€, schede audio a 30€ e così via. Un elenco della mia attrezzatura consigliata per il vostro home studio, sempre roba molto economica che potrete trovare sempre in descrizione. Inoltre, per ogni lezione, vi lascerò in descrizione il download di tutti i plugin, file audio, file MIDI, risorse utili per il buon procedimento del corso. Fine del messaggio promozionale, vi auguro buona visione. So che questo potrebbe sembrare un episodio noioso e inutile, ma fidatevi, non lo è, perché vi mostrerò alcune opzioni che potranno salvarvi letteralmente le chiappe durante la creazione dei vostri brani su GarageBand. Cosa intendo quando parlo di controlli tracce? Intendo tutte queste opzioni qui che vediamo sulle tracce, sulle singole tracce. La prima opzione che vi voglio mostrare è quella che molti si perdono, ve l'ho fatta vedere in realtà già nell'episodio di ieri, ed è quella del monitoring della traccia. Quando andate a selezionare l'input dai vostri dispositivi, vedete che qui c'è questa opzione monitoraggio. Attivando questa opzione, voi sarete in grado di potervi ascoltare in cuffia mentre registrate la vostra voce o la vostra chitarra. Andando avanti, per gruppi, potete vedere che qui troviamo il tasto per il muto, ovvero per mutare quella traccia. Se questa opzione è attiva, voi sentirete tutte le tracce tranne quella che avete selezionato come muto. Questa traccia non suonerà. Al contrario, il tasto solo, che qui viene chiamato a solo, vi consente di ascoltare solo ed esclusivamente quella traccia. Quindi se in un mix di 10 tracce volete focalizzarvi sulla chitarra per sentire se suona bene, se è tutto a posto, vi basterà premere questo tasto e suonerà solo quella traccia. A fianco trovate nuovamente il tasto monitoring, che è lo stesso che trovate qui sotto, messo qui per comodità. Spostandoci a destra, troverete invece il fader del volume, per abbassare o alzare il volume di quella traccia, e solo di quella traccia. E infine il pomello per il panning. Cosa fa il pomello per il panning? Vi consente di decidere se volete spostare quella traccia verso sinistra o verso destra del panorama stereo. Cosa significa? Avete presente quando ascoltate una canzone e magari sentite una chitarra che arriva da questo lato, un pezzo della batteria che arriva da questo lato, mentre generalmente la cassa e il basso sono sempre al centro? Ecco, questo effetto si ottiene con il panning, letteralmente spostando il suono più a sinistra o più a destra, oppure lasciandolo al centro. Un piccolo trucchetto per fare aggiustamenti più rapidi e fare doppio clic su qualsiasi di queste funzioni, per poter letteralmente scriverci dentro e impostare il valore che volete dargli. Allo stesso modo, facendo doppio clic sul nome della traccia, potete rinominarla, chiamandola per esempio ciao, oppure facendo doppio clic sulla traccia selezionata, potete eliminarla, rinominarla, assegnare un colore a quella traccia, vedete che vi si aprirà una comoda palette. Adesso non lo vedete, però una volta registrato il vostro file audio, quel file avrà questo determinato colore che gli abbiamo dato, anzi ve lo faccio vedere subito. Registriamo un piccolo file di test, diamo stop, vedete il file che abbiamo registrato è giallo. Se io adesso andassi a cambiare il colore della traccia, per esempio metterlo arancione, blu, celeste, verde, questo vi aiuta a mantenere un'organizzazione nel progetto. Per esempio potete decidere che tutta la batteria sarà gialla, o tutte le voci saranno viola, o tutte le chitarre saranno rosse. Avrete subito un impatto visivo del vostro progetto con la vostra organizzazione mentale, vi permetterà di essere molto più rapidi. Oltre al colore possiamo addirittura assegnare delle icone alle nostre tracce. Per esempio facciamo finta che questa qui sia una chitarra, perché no, possiamo scegliere tra una delle icone colorate, con gli amplificatori eccetera eccetera, oppure prendere queste qui che io preferisco molto di più, sembrano vuote, però in realtà una volta che le andate a selezionare prendono il colore che avete dato alla vostra traccia, e anche questo è ottimo per avere un colpo d'occhio più organizzato e più veloce. Altra funzione super interessante è il configura intestazione traccia. Da qui potete abilitare delle funzioni aggiuntive, come il blocco traccia, che in futuro vi spiegherò a cosa serve. Abilita registrazione. Questo qui sembra inutile perché voi potete dire eh ma il tasto per la registrazione ce l'ho in alto, oppure posso premere semplicemente R sulla tastiera e registro. Questo è vero, ma se fate questo potete registrare solo su una traccia. Abilitando il tasto per la registrazione, voi potete abilitare due tracce alla registrazione e registrare su due tracce contemporaneamente. Ecco, adesso per esempio la prima non sta registrando perché non ho una tastiera MIDI collegata, però se avessi due tracce audio con due input diversi potrei registrare su quelle due tracce contemporaneamente. Questo è molto comodo se volete registrare una chitarra e una voce allo stesso momento, oppure una tastiera e una voce, eccetera eccetera. Sempre facendo click col tasto destro sulla vostra traccia avete i controlli per creare una nuova traccia audio, una nuova traccia di strumento software, una nuova traccia drummer, che vi farò vedere in un video dedicato, oppure una nuova traccia con impostazioni duplicate. Che ne so, magari avete registrato una chitarra, la volete doppiare oppure volete creare un'altra traccia per fare degli esperimenti senza modificare quella che avete creato, create un duplicato e tutte le impostazioni e i plugin che ci sono su quella traccia verranno duplicati sulla nuova traccia. Ho volutamente evitato di parlarvi della traccia groove perché ne parleremo in un video dedicato. Ragazzi, questo era tutto quello che vi serve sapere sui controlli tracce in GarageBand. Lo so, per quelli di voi un po' più avanti questo video potrà sembrare noioso, ma vi assicuro che per una persona alle prime armi che si approccia a GarageBand per la prima volta è molto utile e soprattutto gli evita tanti mal di testa perché so che alcune funzioni possono risultare difficili da scovare. Per questo video era tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo domani con un prossimo episodio. Grazie. Grazie. Grazie.